Venezia e 10 sottoporteghi da vedere Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò una decina di sottoporteghi più caratteristiche della città. Il sottoporticato o sottoportego è un passaggio di collegamento tra calli o altre strade ricavato direttamente nel corpo di un edificio. In molti sottoporteghi sono presenti spesso piccole edicole contenenti immagini sacre dedicate ai santi e alla Madonna. Ci possono essere piccoli bassorilievi quasi sempre di carattere sacro realizzati in pietradisti o marmo bianco. Esistono tre tipi di sottoporteghi. Il sottoportego che collega una calle a una corte con un'altra calle con un campo o con una fondamenta. Il sottoportego che sfocia direttamente sopra un rio spesso in concomitanza con una riva o con una prodo per l'imbarcazione. E' il sottoportego che affianca il percorso di un rio realizzando così un tratto di fondamenta coperta e consentendo una continuità della viabilità. La prima tipologia è quella più diffusa in città per assicurare una viabilità altrimenti impedita dalle costruzioni. La seconda tipologia è un modo per avere rive coperte di carico e scarico, di merci e passeggeri a riparo dalle intemperie. L'ultima è quella meno diffusa ma anche quella architettonicamente più scenografica, dato che in usce in una singolare sintesi gli elementi acquatici, edilizie e di viabilità più peculiari per Venezia. Io cercherò di mostrarvi i più carini e i più particolari. Buona visione! Il primo più particolare è il sottoportego dei preti a castello. Se centrate e guardate in alto nel retro troverete un cuore rosso che nasconde la leggenda di Milusina che vi lascio il link del video in alto a destra che ne parla. Sempre a castello c'è uno dei sottoporteghi più stretti e bassi e difficili a trovare, il sottoportego Zurlin, in Camporuga. alla fine di via Garibaldi. Vale proprio la pena di vederlo per la sua unicità. Grazie! 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 Un altro sottoportego è particolare perché ospita una delle osterie più note a Venezia, chiamata appunto Osteria al Portego. A due passi da Sant'Apostoli si possono assaggiare cicchetti e bere ombre se nuti nei tavolini, fuori a riparo dalle intemperie. In zona San Giovanni Grisostomo abbiamo la zona in cui si dice sia nato Marco Polo, di cui ho già ampiamente parlato. La zona, posta vicina al Teatro Malibra, ha ben tre sottoporteghi particolari, di cui uno più recente per far fluire gli ospiti del teatro, uno molto basso per portare alla via principale e uno più bello è anche il più antico, che ha un arco medievale del XIII secolo, uno dei più antichi della città di Venezia. Altro esempio è il sottoportego del traghetto a San Can Can, in cui le persone si riparavano mentre si imbarcavano, oppure imbarcavano le merci. Qua ci sono dei gangi in metallo che se toccati portano fortuna. A pochi minuti da San Can Siang, ci sono due sottoportiche che vi consiglio di visitare, quello vicino al Palazzo Widman e il sottoportico del Magasen, molto vicini tra loro che costeggiano il rio. Grazie. Grazie. Vicino alla Scuola Grande della Misericordia, accanto al Ponte Chiodo, unico ponte a Venezia senza balaustre, abbiamo un sottoportico molto particolare che sfoggi in Calle Racchetta. da vedere anche questo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di Paypal. Grazie a tutti.